C'è l'acquisto di 100 libri alla base del coinvolgimento della vicepresidente dell'associazione riferimenti Maria Rosaria Russo nell'inchiesta sui bilanci del sodalizio antimafia. Lo si è appreso ieri a margine della cerimonia di consegna del premio Medmeo d'Oro tenutasi a Rosarno nella scuola diretta dalla vice di Adriana Musella. Entrambe indagate dalla DDA di Reggio Calabria alla Russo, a differenza della fondatrice di Gerbera Gialla, per il momento non rilascia dichiarazioni. Ma da quel che si è appreso, l'acquisto sospetto si riferirebbe alla sua attività di dirigente reggente in una scuola di Locri. Il premio consegnato ieri, organizzato dal Comune e dal Liceo Piria nel quadro dei festeggiamenti per i 100 anni dalla Prima Guerra Mondiale, è andato fra gli altri dal procuratore Caffiero De Rao e al suo aggiunto Lombardo, che assieme al prefetto di Bari e al questore Grassi non hanno ritirato la targa nella cerimonia presentata dalla preside russo. Da Rosarno per la CNews24. Da Rosarno per la CNews24.